Per chi non lo sapesse, è in progetto una pista da Bob a Cortina in occasione delle Olimpiadi 2026. Oggi scivoleremo negli aspetti che portano l'uomo a disboscare, ma prima vediamo quali sono i tre motivi principali delle proteste che sono nate negli ultimi mesi riguardo questa pista da Bob. 1. La pista costerà un tantino. Si parla di cifre attorno ai 100 milioni di euro. 2. La pista verrà probabilmente abbandonata nel giro di qualche anno dopo le Olimpiadi, come è successo a tutte le piste da Bob costruite in Italia finora. Considerate che i bobbisti, i bobbinatori, i praticanti di Bob in Italia sono una cinquantina più o meno. Quanto pensate potrà essere utilizzata questa pista? 3. Verranno abbattuti migliaia di alberi secolari con tutte le conseguenze del caso che approfondiremo tra poco. Fermiamoci a questi tre motivi. Non sono tutti, eh? Però sono quelli più influenti. Benvenuti o bentornati su Ma tu pensa la natura. Oggi sarà un video un pochino diverso dagli altri, un po' più colloquiale a tratti scientifico, a tratti metaforico. Ma prima, se volete darci una mano in questa avventura divulgativa, lasciate un like, condividete il video o seguiteci. Basta un click, è gratis, a voi non costa nulla, ma a noi ci date una grandissima mano. Torniamo a noi. Tralasciamo momentaneamente i primi due aspetti, ovvero il costo e l'effettiva utilità a lungo termine, che già da soli varrebbero il comune di senso. Ma concentriamoci sul terzo motivo, ovvero l'uccisione di alberi. L'uccisione di alberi, sei sicuro? Lo so, suona un pochino strano, sono un pochino strano, però è proprio questo il problema. E adesso vediamo il perché. C'è un errore enorme che facciamo quando pensiamo alle piante. Li consideriamo oggetti inanimati che subiscono il mondo circostante. È sbagliatissimo! Questi sono esseri viventi, esattamente come noi. Sono vivi! Perché non riusciamo a concepire che esseri così diversi da noi possano essere altrettanto vivi. Che poi, se ci pensiamo bene, mica sono così tanto diversi. Le uniche differenze davvero sostanziali risiedono nella lentezza dei movimenti e nella diffusione degli organi. Adesso vi spiego meglio. Lentezza. Troppo spesso le consideriamo immobili. In realtà non sono per niente immobili. Riescono a muoversi, ma con ritmi molto molto più lenti di quelli di noi umani. Ma non solo. Non solo si muovono, ma viaggiano anche. Pensate che quando si formano le nuove isole vulcaniche, le isole vulcaniche di neoformazione, le piante riescono a colonizzarle. Queste isole sono lontane centinaia di chilometri dalla terraferma. Quindi sì, viaggiano anche. Diffusione degli organi. Cosa vuol dire? Che noi animali abbiamo organi centralizzati. Ovvero, abbiamo un cervello, due polmoni, due occhi, uno stomaco. E le nostre funzioni vitali dipendono da questi organi specializzati e centralizzati. Le piante invece hanno diffuso su tutto il loro corpo le funzioni vitali. E se ci pensate, questo è un vantaggio evolutivo gigantesco. Alle piante, se gli tagli un ramo, loro continuano a sopravvivere. Agli animali, se gli togli lo stomaco, muoiono. Quindi, le due principali differenze che ci differenziano dalle piante sono la diffusione degli organi e la lentezza, diciamo così. Però per molti altri aspetti siamo decisamente simili alle piante, più di quanto pensate. Adesso ve ne elenco qualcuno. Le parole che seguono sono destinate a un pubblico generico. I concetti sono estremamente semplificati e metaforici. Grazie per l'attenzione. Uno, le piante vedono. Usciamo un attimo dalla concezione antropocentrica secondo la quale la vista dipende esclusivamente dagli occhi. Lo so, lo so, è difficile, ma è anche per questo che le piante spesso vengono considerate come oggetti. Cerchiamo di cambiare un attimo la mentalità. Le piante riescono a percepire l'ambiente circostante. Tra l'altro non è questo che facciamo noi con gli occhi? Le piante sanno perfettamente verso quale direzione crescere per ricevere più luce. Quindi percepiscono gli stimoli luminosi esattamente come fa l'occhio umano. Ma non solo. Le piante riescono anche a capire bene o male le forme dell'ambiente circostante. Pensate alle rampicanti che riescono a capire verso quale direzione devono andare per arrampicarsi meglio. Oppure pensate che ci sono delle piante che riescono addirittura a capire su che albero si stanno arrampicando, su che specie di albero. Insomma, le piante vedono, non con gli occhi come noi, ma vedono. 2. Respirano. Esatto, respirano. Noi lo facciamo con scambi gassosi a livello polmonare. Loro lo fanno in modo diffuso su tutto il corpo attraverso la fotosintesi. 3. Le piante hanno un carattere. Ci sono quelle timide, la famosa timidezza delle chiome. Quelle chiome, non so se avete mai visto, che viste dall'alto creano quelle forme geometriche quasi precise, pur di non toccarsi l'un l'altra. E poi ci sono quelle un po' più esuberanti, che addirittura si arrampicano l'una sull'altra. 4. Le piante comunicano tra loro. Noi lo facciamo con il suono, parlando, come sto facendo io. Loro lo fanno con la chimica. Soprattutto sottoterra le piante è come se si scambiassero messaggini, tipo questa dice a quest'altra. Ehi, guarda che sono appena stata attaccata da un parassita, inizia a produrre gli antiparassitari anche tu, sennò sono c***o i tuoi. Oppure quest'altra, dice la prima. Ehi, guarda che sono un po' in carenza di azoto, non è che te ne avanza un pochino? E l'altra? Sì, certo, c'è un po' nella credenza, te ne passo un po' attraverso le mie radici. Questo avviene grazie a una simbiosi pazzesca tra le piante e i funghi. In realtà non proprio i funghi, ma il micelio sotterraneo è... il micelio è la parte sotterranea, il corpo fruttifero, il fungo che vediamo in superficie è solo una minima parte. La maggior parte sta tutta sottoterra. Quindi questa fittissima rete sotterranea crea connessioni tra radici di piante diverse e funge un po' come una rete stradale in cui si veicolano sia informazioni che nutrienti e sostanze chimiche. Quindi, se ci pensiamo bene, le piante comunicano da molto più tempo di quanto lo facciamo noi. Cinque, le piante hanno cure parentali. Esatto, proprio come noi ci prendiamo cura dei nostri figli, anche le piante si prendono cura della propria prole. Come? Quando un seme cade nel sottobosco. Ovviamente nel sottobosco la luce e le sostanze nutritive sono scarse. Quindi che succede? La pianta genitore riesce a mandare le sostanze nutritive di cui ha bisogno il seme, la piantina piccola, attraverso il sottosuolo. Potrei continuare a lungo, ma fermiamoci a questi cinque aspetti che ci rendono simili alle piante. Che poi in realtà non è che voglio dire che siamo simili alle piante, ma voglio far passare il concetto che le piante, come noi, sono esseri viventi e quindi uccidere è esattamente il verbo giusto quando si parla di tagliare gli alberi. Alla luce di tutte queste considerazioni, secondo voi vale ancora la pena uccidere tutte quelle forme di vita per una pista da Bob costosissima e che sicuramente verrà abbandonata in pochissimi anni? Se la vostra risposta è ancora sì, ne vale la pena, aggiungo giusto qualche considerazione finale. Sapete chi è che ci protegge dal rischio di valanghe sui versanti scoscesi? I boschi. Sapete chi è che trattiene il suolo evitando frane e smottamenti? I boschi. Sapete chi è che fa infiltrare l'acqua in profondità evitando le alluvioni? I boschi. Sapete chi è che crea l'habitat per centinaia di migliaia di specie animali, aumentando la biodiversità da cui noi stessi umani dipendiamo? I boschi. Sapete da dove deriva gran parte dell'ossigeno che usiamo per respirare? Esatto, dai boschi. E sapevate che sono stati inventati dei macchinari organici assurdi che riescono a trattenere l'anidride carbonica che noi produciamo in eccesso? E indovinate un po'? Sono proprio gli alberi, i boschi. E sapevate che c'è una specie animale che sta provando in tutti i modi a distruggere questi esseri viventi da cui la sua stessa specie dipende. Sono proprio gli esseri umani. Si sta facendo buio però, alla luce di queste ultime considerazioni, si può dire che se l'intelligenza è la capacità di risolvere i problemi, di cooperare, di attuare strategie per mandare avanti la propria specie, direi che l'essere vivente davvero intelligente non è l'uomo, ma sono le piante. Grazie a tutti.